Dobbiamo intervenire subito con fermezza per far rispettare le regole da parte di questi ragazzi, in parte anche minorenni che evidentemente hanno un problema educativo. Il sindaco di Vicenza lancia un messaggio forte e chiaro alle baby gang che si aggirano per la città come se fosse una foresta urbana. Branchi di ragazzini armati di rabbia che portano la loro violenza non solo sulle strade ma anche negli autobus. Dopo l'aggressione con un calcio in testa a un controllore di SVT, Francesco Rucco oggi porta la questione sul tavolo del prefetto, nel comitato per l'ordine e la sicurezza, con il questore e i comandanti delle forze dell'ordine. Abbiamo condiviso un'azione per il prossimo fine settimana, da venerdì a domenica ci sarà un presidio fisso nell'area dei giardini salvi con l'esercito, in particolare con i militari che seguono l'operazione Stade Sicure, e affincato naturalmente dal supporto degli agenti di polizia, carabinieri, finanza e la polizia locale. Le forze dell'ordine gireranno anche in Piazza Castello e in Viale Roma. Negli ultimi due anni sono state 12 le aggressioni ad autisti e controllori ma è arrivato il momento di dire basta. Per questo l'assessore alla mobilità Matteo Celebron conferma la proposta lanciata ieri nel nostro Tg, Vigilantes sugli autobus, nelle tratte e negli orari più a rischio. La proposta dei Vigilantes la porterò avanti, tanto che sono intenzionato nei prossimi giorni a incontrare i sindacati, a incontrare gli autisti, perché dare garanzia e sicurezza agli autisti significa dare garanzie e sicurezza a chi utilizza il trasporto pubblico locale e quindi ai cittadini. Quei comportamenti, quelle violenze sono inaccettabili in questa città.